Ci siamo, è tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli del premio 7 colli edizione 2020. Dopo poche centinaia di metri Lord Bay si porta subito al comando con la stessa cosa fatta da Hardway Winner che oggi decide di correre in testa e così è, da uno steccato largo in poche battute si porta in vantaggio nei confronti dello stesso Lord Bay che si mantiene in seconda, in terza troviamo con la giuba blu Prisoner of Love, in quarta con la giuba verde cap blu invece c'è Morellina a precedere l'altra femmina Arizona Dream e poi un terzetto di coda formato da Asso Pigliatutto, Cam Turan ed Angel of the World. Cavalli che sono a metà curva senza che nulla sia cambiato, posizioni anzi assestate Hardway Winner in vantaggio anche se in maniera un po' scordinata Lord Bay che si mantiene in seconda posizione, in terza invece con il paraocchi vistoso Prisoner of Love in quarta posizione si avvicina dall'esterno Arizona Dream, Morellina invece che va di dentro, stessa cosa per Asso Pigliatutto, poi più al centro della pista troviamo Angel of the World e Cam Turan, intersezione delle piste superate con Hardway Winner che senza flettere in questa fase, intanto c'è stata una brutta caduta per Arizona Dream, comunque torniamo in cima, Hardway Winner è in vantaggio nei confronti di Lord Bay, più al centro della pista prova a venire avanti Morellina con Angel of the World e soprattutto Cam Turan, Lord Bay è passato in vantaggio nei confronti di Morellina che ci prova, Cam Turan al centro della pista, Cam Turan che si mette in marcia, Cam Turan contro Lord Bay, Cam Turan che fa 3 su 3 anche nel 7 colli, e batte Lord Bay per il terzo posto Morellina, intanto nessuna conseguenza per Arizona Dream che sta passando adesso davanti al traguardo, Fantino ancora a terra ma tendiamo chiaramente ulteriori chiarimenti, vince sul traguardo Cam Turan che si mantiene imbattuta in 3 uscite, 3 su 3 per la figlia di Holy Roman Emperor, Dario Di Tocco in sella, Alduino Botti al training, i colori sono quelli del Giglio Sardo, 7 al primo, 3 al secondo, 5 al terzo, 7-3-5, l'ordine d'arrivo del 7 colli. Grazie. 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 Grazie.